Tutte le professioni a loro modo sono delle comunità, sono delle complicità, sono delle alleanze, sono delle solidarietà. Il cinema le ha queste, voglio dire, cioè quando si ama la stessa cosa si diventa fratelli. E poi, in fondo, quello dello spettatore cinematografico è una solitudine, si è soli nel buio della sala ma con gli altri. È una solitudine con gli altri, è un momento comune di emozioni. E poi quando si riaccende la luce spesso la gente si abbraccia e si conosce per le emozioni che sono provate e si fanno dei corsi accelerati di amicizia che magari durano tutta la vita.